Treas Franciapiatta è un integratore alimentare formulato appositamente per ridurre i problemi di gonfiore addominale che possono dipendere dalla flora batterica intestinale, dai processi digestivi, dallo stress o da una maggiore ritenzione di liquidi. Il prodotto è disponibile nel formato da 30 compresse e ogni compressa apporta dei fermenti lattici tindalizzati, lato bacillus acidophilus casei, proprio per dare un aiuto a livello di flora batterica intestinale, apporta un pool di enzimi digestivi ottenuto dalla fermentazione dell'amido di cereali, tra cui lipasi, proteasi, amilasi, lattasi e molti altri, e due estratti vegetali di camomilla e di betulla. La camomilla contribuisce a ridurre gli effetti negativi dello stress a livello dell'apparato gastrointestinale, mentre la betulla è utile in caso di una maggiore ritenzione di liquidi. Si consiglia una compressa prima dei pasti o al bisogno. Il prodotto è privo di glutine.